Come ogni fine anno si tracciano i bilanci e di bilanci dell'anno che sta per chiudersi e di prospettive per il nuovo parliamo in un settore che negli anni ha sofferto molto la crisi, il settore immobiliare. Quello che balza subito all'occhio è la conferma di un buono stato di salute del settore. I prezzi delle casse sono aumentati del 5% nel 2019 in controtendenza rispetto alla media nazionale che vede un ribasso del 2% secondo gli ultimi dati diffusi. Nel 2020 ci accingiamo di iniziarlo con lo stesso entusiasmo, diciamo che le condizioni prettamente economiche quindi i tassi e i valori non dovrebbero mutare. Questo significa che il mercato non è in grandissima ripresa ma sta recuperando tutto quello che ha perso in questi dieci anni. Udine e Pordenone? Udine rappresenta il 50% del mercato comunque di questa regione. I dati che sono usciti anche certificati dall'Agenzia delle Entrate indicano chiaramente un 2019 che si chiuderà su Udine in particolare con un più 5% di numero di compravendite. Grande entusiasmo sulla località balneare, quindi Lignano. Preoccupare un attimo sono i dati comunque della nostra montagna. Pordenone? La provincia di Pordenone, in particolare la città e la zona nel Bobbile, quindi Prata di Pordenone, Brugnera, Pasianti di Pordenone in questo momento stanno vivendo dal punto di vista dell'aumento dei prezzi un momento molto importante, molto significativo questo dettato principalmente dall'aumento della domanda legata sicuramente anche alla base militare di Aviano. E anche per i mutui i tassi di interesse non sono mai stati così bassi e non si prevedono a breve rialzi.